Bentornati a tutti, bentornati dopo Ascoli Parma, uno a tre pere, uno a tre pere e Dennis Mann di nuovo Man of the Match, con due gol, due gol, uno più bello dell'altro, il secondo ok, ha vinto un piccolo rimpallo, ma in realtà le azioni, le movenze, i dribbling sono ottimi. Allora, questa partita, a parte la difesa che si è ritrovata ancora a dover sopportare Osorio, per il resto devo dire che è andato tutto molto bene. Per questa partita sarò veramente breve, allora una vittoria che mi aspettavo, una vittoria che purtroppo non ho potuto commentare a livello di Mago Cronaca perché purtroppo è sabato pomeriggio per me off limit praticamente sempre, o quasi, e questo mi dispiace però è così. E niente, per quanto riguarda la partita parliamo dei singoli. Allora, dei singoli io sottolineo Bonny, ovviamente tutti dietro a Dennis, perché ovviamente questa partita Dennis Mann l'ha fatta da padrone, lo vedete anche della miniatura, però Bonny, Bonny ha fatto benissimo. Bonny che mi sembra che in certe partite diventi come avere Lukaku in campo, o quasi, nel senso che non lo sposta nessuno. Fra l'altro ha un controllo di palla veramente ottimo anche sullo stretto. Bonny utilissimo, uno dei più utili, qualsiasi attacco venga schierato, uno dei più utili perché tiene un casino di palloni, non se li fa rubare e fa salire la squadra, cosa che per il Parma è veramente molto importante. Quindi Bonny, veramente ottimo, suo anche l'assist per Mann del primo gol. Poi cosa abbiamo? Abbiamo Somm, Somm che si conferma, non livelli altissimi in questa partita, però assist, corsa, i famosi strappi, perché ormai sono diventati una regola, cominciano a essere una regola anziché essere una cosa ogni tanto. Questa partita ne ha fatti almeno due, in cui si è presentato anche davanti alla porta, e vabbè, è andata male, non ha fatto gol, non ha fatto magari la scelta giusta, però sempre presente. Esteve, se solito, contributo. Altre cose belle, qua prendo i miei punti, diciamo che un Parma e un Ascoli che sono partiti veloci, il Parma è andato ancora una volta, boom boom, uno, due, tre secondi, sei minuti in gol, e poi cosa succede? Succede che veramente senza colpe alla difesa, secondo me, becchiamo un gol al tredicesimo da Caligara, da fuori area, passaggio lì indietro, un tocco lì indietro di un compagno, tiro da fuori, vabbè, Ciccizzola non poteva nulla, però devo dire che non mi sento di dare delle colpe alla difesa, perché qua è stata un'azione veramente veloce di Caligano, non ha dato il tempo a nessuno di andare incontro, veramente a contrarlo, quindi secondo me ci sta quel gol lì assolutamente, non do la colpa alla difesa del Parma. Beccano l'1-1 il Parma, il Parma a questo punto sente questo gol, lo sente, perché per dieci minuti praticamente c'è solamente l'Ascoli in campo. Dopodiché il merito va a Bonnì, va a Bonnì che fa munire Beluscia al venticinquesimo, da lì in poi il Parma comincia a reingranare, e niente, al trentatresimo arriva l'altro gol di Dennis Mann, che dà il 2-1 al Parma, Parma che continua a macinare palloni, a questo punto va in fiducia, Bonnì che veramente anche in difesa si prodiga a recuperare palloni, quindi veramente utile dalla difesa all'attacco. Poi abbiamo che praticamente cosa succede? Succede che al cinquantatresimo abbiamo la favolosa punizione di Bernabè, che traversa e gol, traversa dentro, ovviamente si va il va per vedere, i gollanti technology va e tutto, che confermano, non possono altro che confermare, che la palla è entrata tutta e il Parma va sul 3-1. A questo punto la partita fra l'altro si spegne, perché? Perché Viviano, lì il portiere dell'Ascoli, impazzisce e si fa espellere dall'abito per proteste, e quindi a quel punto lì sul 3-1 con un uomo in meno l'Ascoli, praticamente la partita si può dire che sia finita. fra l'altro registriamo anche l'uscita di un ottimo Bonnì, entra Czolac, entra Camarà, ed è Sessom, se non ricordo male, e niente, praticamente... Allora, scusate, allora, e sebbene che entra Mijaila, è Sessom e entra Camarà. Allora, Camarà, che, diciamo, partita abbastanza anonima, però ci mette l'impegno. Per quanto riguarda invece Coulibaly, Coulibaly ha fatto bene, anche lui è entrato e ha dato una mano alla squadra, è tornato su ottimi livelli, non ha fatto sfracelli, ma, diciamo, è riuscito a tenere bene, a tenere bene Gabbiato Lascoli, che fra l'altro in uno in meno, secondo me, ormai non poteva fare più niente. Cosa già registriamo? Registriamo che, diciamo, non c'è altro da dire, non c'è altro da dire perché, senza guardare le singole azioni, che magari sono state anche sbagliate, perché è il stesso Somm, si è fumato il gol, e, diciamo, però è un bel parma, un bel parma perché, diciamo, deve migliorare solo sotto il profilo di quando becca gol, nel senso che a volte, come è successo anche stavolta, ha beccato il gol dal tredicesimo dell'1-1 da Caligara, fra l'altro, incolpevole, ripeto, la difesa è praticamente incolpevole e si è, diciamo, ha beccato una botta morale per 10-12 minuti, non si è più alzato, e attenzione perché ha rischiato anche di beccare il gol del 2-1 dell'Ascoli, se non che il Cici, il Cici Zola, stavolta ha fatto una bella giocata, una bella parata, sulla sua sinistra, e ha evitato il 2-1 dell'Ascoli. Qua la partita poteva effettivamente cambiare, perché in questi 12 minuti di sbando, che se vogliamo è l'unica ora della partita, il Parma poteva prendere il 2-1, a questo punto poteva essere più difficile la partita, più difficile portarla sulla vittoria del Parma, perché c'era da fare un 2-2 e un 3-2, e diciamo psicologicamente sarebbe stata una brutta botta. Cici Zola ha salvato, è andata bene, e poi siamo andati noi sul 2-1. Finiamo dicendo, Dennis Mann si conferma, addirittura Pecchia lo tira via, lo tira via al sessantesimo o settantesimo, giù di lì, lo fa uscire in grande anticipo, secondo me, per preservarlo addirittura, perché a sto punto un Dennis Mann così va preservato, cioè sul 3-1 diciamo che bisogna tenerlo buono, perché ci viene utile, cioè ci viene utile perché è in forma eccezionale, gli vanno bene tutte, fra l'altro. Al Parma diciamo sta andando bene qualsiasi cosa in questo momento, perché c'era anche un possibile rigore del 3-2 verso il finale di partita, che è stato annullato, diciamo non concesso tramite il VAR, e ci poteva anche stare fra l'altro forse, però il risultato è che ci stanno andando tutte bene, il Parma sta anche giocando bene, certi giocatori sono su dei livelli che l'anno scorso potevamo solo che scordare, dimenticare, non immaginare nel mondo dei sogni, delle favole, e quindi basta. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a commentare se avete qualcosa da dire anche voi su questa partita, Parma primo in classifica, Parma che anche se il Palermo dovesse vincere sarà ancora primo in classifica, quindi in una situazione veramente di, al momento di serenità, con cui vivere ogni partita, giocando a viso aperto, senza farsi problemi, senza tensioni. Vi ringrazio, ci vediamo alla prossima Mago Cronica, e la magia sia con tutti voi. Ciao! Ciao! Grazie.